ciao a tutti benvenuti in questo nuovo video oggi mi trucco con il baffo o trazione extra orale che dir si vuole allora mi trucco utilizzando una bb cream utilizzo questa perché sono abbastanza abbronzata quindi posso utilizzare tranquillamente questa qua e andrò a utilizzarla con un pennellino anche perché con questo altrimenti non saprei proprio come mettere l'acqua sotto non sto utilizzando neanche uno specchio allora come vedete il colore adesso è perfetto per me quando invece non sono abbronzata non va bene per niente perché è troppo scura iscriviti al canale Grazie a tutti. Grazie a tutti. Utilizzo lo stesso pennello. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Illuminante. Grazie a tutti. 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 Ed ecco qui un trucco velocissimo, fatto in 5 minuti, fresco e estivo, per tenervi sempre ordinate e a posto, non conterla parecchio. Bene, io con questo video è terminato, vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo al prossimo video, ciao!